Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il campionato di Serie D, domenica il Campobasso sarà ospite del San Severo, con pagine di Serie D che parteciperà al Girone H per un test amichevole. Intanto la società sta valutando i due centrocampisti in prova, movimenti di mercato anche a diserni, il club è ad un passo dall'attaccante Cantoro. Anticipazione di stampa, intanto attesi i gironi e i calendari di Serie D potrebbero essere pubblicati martedì prossimo primo settembre, potremmo quasi eliminare il condizionale, ci potrebbe essere al massimo un anticipo di 24 ore sulla tabella di marcia, ma la notizia è praticamente una certezza. Non ci sarà alcuno slittamento dell'inizio delle ostilità inizialmente fissato e confermato per il giorno 6 settembre ai nostri microfoni anche dal Presidente federale Carlo Tavecchio, dunque ad appena cinque giorni dalla pubblicazione dei gironi e dei calendari. Di sicuro rendere pubblica la collocazione geografica delle squadre rende la vita difficile a tutti e non è il massimo dal punto di vista organizzativo, però per quest'anno tant'è. Le sentenze relative agli scandali scommesse e partite truccate hanno avuto un effetto domino pazzesco che ha avuto dei riflessi dalla Serie B alla quarta serie, effetti ancora non del tutto risolti perché si stanno esaminando i ricorsi in appello del Catania, del Teramo, dello stesso Savona, ma pure della Torres e della Mezzia. Da rimarcare che lo stesso procuratore federale Stefano Palazzi ha presentato ricorso avverso le sentenze di primo grado del Tribunale Sportivo federale perché non è stato per così dire accontentato relativamente alle richieste di sanzione. Palazzi aveva chiesto la Serie D per Savona e Teramo con penalizzazione di 10 punti per i Liguri, di 20 per gli Abruzzesi. Entro venerdì ci sarà il pronunciamento di secondo grado pure per l'inchiesta Dirti Soccer che di fatto ha portato a una miriade di ammende ma pure all'esclusione del Brindisi dal campionato di Serie D. Un caos del genere davvero non ha precedenti e nella confusione che regna sovrana dobbiamo pure registrare che il CONI ha dato ragione al Seregno, società lombarda che aveva fatto ricorso avverso i criteri stabiliti da Tavecchio per rimpiazzare il Castiglione in Lega Pro, squadra vincitrice lo scorso torneo di Serie D. Si discuterà di tale caso pensate il giorno 3 settembre a pochi giorni dallo start del torneo. Il caso del Seregno potrebbe dare adito ad altre società che avevano le medesime velleità di prendere il posto del rinunciante Castiglione a presentare ricorso contro le determinazioni inizialmente stabilite dalla FIGC. Ricordiamo che attualmente la Lega Pro annovera 54 squadre iscritte già suddivise in tre raggruppamenti con quattro posti vacanti che saranno colmati nelle prossime ore pure con i calendari della vecchia Serie C. Il campo basso conferma l'amichevole contro il Sansevero che si giocherà domenica prossima alle 15 nel centro Pugliese. La situazione del centrocampista albanese appare essere più grave del previsto, anzi ci spingiamo a dire che è ai limiti dell'idoneità all'attività agonistica. Vicino il divorzio dunque con Albanese, elemento rilevante di qualità nello scacchiere tattico di Cappellacci, pedina seguita con vivo interesse dalla dirigenza campobassana sin dal mese di dicembre quando Albanese si allenava anche con la prima squadra del Lanciano. Prossimi alla firma con il campo basso i centrocampisti Grazioso ed Aprile, entrambi classe 95 nello stesso ruolo in cui c'è pure il campo bassano Tucci ad agitarsi per un posto da titolare. Grazioso è pure un molisano e originario infatti di San Martino in Pensilis mentre Gabriele Aprile reca con sé in dote una buona esperienza nei campionati di Serie D maturata in piazza e non di poco conto come Agrigento e Monopoli, quest'ultima squadra vincitrice della Coppa Italia di Lettanti. Entro domenica si aggregherà al gruppo di Cappellacci anche un portiere classe 97. Abbandonate le piste che portavano ai classi 97 Ciotti e Torelli, si sceglierà un altro estremo difensore in mezzo a un ventaglio di 4-5 nomi. Bisognerà scuotere l'ambiente in vista del campionato, si sono venduti 200 abbonamenti ma la società si aspettava un numero migliore. Proprio per questo si sta ragionando a una festa rosso-blu per il prossimo 4 settembre in piazza Municipio che sarà anche l'occasione giusta per presentare la squadra ai tifosi a poche ore dallo start del campionato. A Disernia si attende con lo stesso fremito la compilazione di gironi e calendari di appartenenza. Alla squadra di De Bellis si è unito da due giorni anche l'attaccante Lucas Cantoro che è reduce da un'esperienza in Molise, esattamente da Agnone, relativa allo scorso campionato. Il pacchetto senior è completo, all'appello mancano due ragazzi under che dovrebbero andare ad occupare i ruoli di esterni sia difensivi per la squadra bianco-celeste e in agenda un amichevole sabato prossimo contro i laziali dell'Isola Liri, altra squadra partecipante al prossimo campionato di Serie D. Per quel che riguarda la Juniors bianco-celeste questo pomeriggio alle 15.30 è in programma la prima uscita ufficiale. I ragazzi di Mister Di Rienzo prenderanno parte alla seconda giornata dello sport di Civitanova del Sannio, un triangolare che li vedrà in campo insieme alla squadra locale e al Carovilli. Torniamo al campo basso, il punto della situazione in casa rosso-blu affidato al vice Ianni. Marco Ianni, allora preparazione lunga, intensa, possiamo già trarne un piccolo bilancio dopo un mese e mezzo di preparazione? Ma sì, un bilancio positivo, è chiaro che ormai dopo un mese ci sono le prime indicazioni ed è normale che adesso cresce la voglia e l'attesa per iniziare a fare qualche partito ufficiale, quindi qualche gara che conta per poi cominciare a fare sul serio, quindi attendiamo con trepidazione questi gironi e visto che quest'anno non c'è neanche la possibilità di fare la Coppa Italia prima del campionato, quindi la prima gara ufficiale poi sarà direttamente partita vera in campionato, quindi ripeto, ormai un mese passa che siamo qui, siamo quasi pronti in tutto, speriamo di arrivare pronti poi al 6 settembre. Ecco appunto hai parlato dello slittamento della Coppa Italia di un mese dal 30 agosto al 30 settembre, c'era bisogno di una gara ufficiale che facesse da viatico al campionato, che danno vi ha portato nella vostra programmazione, nella vostra tabella di marcia questo rinvio della Coppa Italia? Ma no, danno alla fine rinviata per tutti, quindi fondamentalmente è un cambio di programma che dovranno fare un po' tutte le squadre. è normale che faceva comunque comodo iniziare il campionato avendo fatto già una gara ufficiale, però ripeto, come per noi è un problema, è per le altre squadre, quindi dovremmo essere pronti quando poi la prima gara ufficiale corrisponderà alla prima giornata del campionato, sperando che non ci sia un ulteriore rinvio anche dell'inizio del campionato, che quindi si inizi il 6 settembre come insomma era da programma. Per quanto riguarda l'inizio del campionato, ecco, ci aspettiamo solamente il momento di iniziare. Hai detto siamo quasi pronti, ti chiedo dal punto di vista tattico e fisico, la squadra ha fatto notevoli progressi, notevoli miglioramenti, anche se nelle amichevoli ci sono stati, sono stati evidenti degli errori proprio nella misura dei passaggi, cosa che può essere normale a questo punto? Sì, è chiaro che a volte la stanchezza gioca brutti scherzi per quanto riguarda la precisione delle giocate, però credo che poi con il passare dei giorni si cerca di arrivare nelle migliori condizioni, quindi anche il singolo giorno può essere importante per prendere quel pizzico di condizioni in più per arrivare pronti all'inizio del campionato. È normale che poi in ogni squadra ci sono giocatori che riescono ad arrivare in condizione nel minor tempo possibile, ci sono altri che magari hanno bisogno di più tempo, quella fa parte insomma della costituzione anche fisica dei giocatori, quindi magari il giocatore più leggero ha un tempo minore per entrare in condizione, quello magari che ha un pochino più di muscolatura, comunque un pochino più pesante, chiaramente ha un tempo magari più lungo, però questo come vale per noi vale per tutte le altre squadre, noi siamo una squadra credo abbastanza strutturata e muscolare, quindi è normale che all'inizio della preparazione comunque nelle prime partite, ma anche in queste ci possa essere qualche giocatore stanco, qualche errore di troppo, però io credo che poi quello che conta è arrivare pronto il campionato e noi stiamo lavorando per fare questo. Due le amichevoli in programma al Civitelle, questo pomeriggio alle 16 l'Olimpia agnonese ospiterà il Macchia di Sernia, sabato è la volta della primavera del Lanciano, intanto sembra aver recuperato dall'infortunio Pifano che è tornato ad allenarsi insieme al gruppo, la società sta valutando diversi giocatori in prova e in queste ore potrebbe arrivare la firma di un attaccante. Coppa Italia, si sono disputati ieri pomeriggio i tre posticipi della competizione tricolore, Festival del Goal a Castel Mauro dove il Termoli si è imposto per 7-1, Matese-Vairano è terminata 2-1, Baranello-Roccaravindola 0-2. Ancora un posticipo per il primo turno, si tratta di Real Prata-Treppini che si giocherà sabato alle 16, questo fine settimana di nuovo in campo per le gare di ritorno. A proposito del match, Baranello-Roccaravindola il servizio. Nel posticipo del primo turno di Coppa Italia, il Baranello perde in casa contro il Roccaravindola, 2-0 il punteggio in favore della squadra ospite, grazie ai gol realizzati nella ripresa da Antonio Cambio e da Di Prisco. Nel primo tempo la partita viaggia su ritmi blandi, al quindicesimo Manoli Di Chiro lancia sulla sinistra Giovanni Nilo, tira di incrociare e palla che termina fuori. La risposta degli ospiti arriva al ventesimo con Di Prisco che verticalizza per Antonio Cambio che non trova la porta da buona posizione. Al ventisesimo da rimessa laterale colpo di testa di Antonio Cambio e Manocchio riesce a parare. Tra il ventinovesimo e il quarantunesimo si vede solamente il Baranello. Al minuto numero 29 punizione dei 25 metri di Di Chiro con D'Aguanno che para con un certo affanno. Al trentatresimo altra punizione di Di Chiro e questa volta D'Aguanno si salva in grande stile. Al trentaquattresimo invece è incredibile la palla a gol che capita al Baranello con Angelo Nilo che a porta vuota non approfitta di un'uscita a vuoto di D'Aguanno e tira incredibilmente fuori. Al quarantunesimo altro calcio di punizione di Di Chiro. Paolo Antonio va giù ma il direttore di gara, il signor Quici, non concede nessun calcio di rigore. Nella ripresa non accade nulla. Al quinto Di Prisco fugge sulla sinistra, crossa al centro che Manocchio riesce a intercettare. All'ottavo c'è la risposta del Baranello con un tiro a giro alto da parte di Antonio Manocchio. Al diciottesimo invece il Baranello va vicinissimo al gol con Di Chiro calcio di punizione e in crocio dei pali colpito. Al diciannovesimo ancora Di Chiro su punizione e ancora D'Aguanno riesce a rispingere. Al ventisettesimo nel momento migliore del Baranello però sono gli ospiti a spassare. Lancio in verticale, buco di Lucaniro e cambio riesce a segnare dopo aver vinto anche un rimpallo con il portiere Manocchio. Poco dopo al minuto numero 30 il Baranello va vicino al pari con Di Chiro che spara alto da ottima posizione. Mentre al trentasettesimo è incredibile il gol sbagliato da Costantino che da poco entrato spara alto incredibilmente. Al quarantunesimo altra occasione per il Baranello, tiro da fuori di Daniele Di Chiro con la palla che va fuori. Mentre al quarantacinquesimo c'è il raddoppio degli ospiti con Costantino che serve di Prisco, fiondata e gol per il 2-0. Al quarantanovesimo minuto e 55 secondi c'è anche un blackout partita interrotta. Poi alla fine il signor Quisi dopo cinque minuti decide di fischiare per tre volte e quindi il Roccaravindola riesce a passare sul campo di un volitivo Baranello per 2-0. Per quanto riguarda la gara di ritorno tra Termori e Castel Mauro in programma domenica la partita si disputerà a San Martino per l'inagibilità del Gino Cannarza. Il prefetto non ha dato l'ok e probabilmente lo stadio non potrà ospitare nemmeno la prima di campionato. Giornata a Ripalimosani per il settore giovanile della Virtus Lanciano. I ragazzi di Alfieri alle 16 scenderanno in campo per un amichevole contro l'ASD Trearchi di Ripalimosani. Calcio a 5 in programma questo fine settimana. Un raduno per ragazzi nati dal 95 al 99 per allestire le formazioni Under 21 e 18 dell'Isernia. La partecipazione è gratuita. Ciclismo 11 le regioni italiane che hanno preso parte al ventesimo Memorial Lenino Priolo. Gara ciclistica interregionale valida anche come seconda prova del settimo trittico del Molise. La terza tappa secondo Memorial Carmine Tamburri è in programma domenica a Indiprete. Ma a proposito della manifestazione di Boiano, ai nostri microfoni il presidente della Molise ricambi. Antonio Tamburri, il deus ex macchina dell'organizzazione, presidente della Molise ricambi, organizzatore, direttore di gara, un po' il factotum di questa manifestazione, arrivata alla ventesima edizione. Tiriamone dei risultati. I risultati sono positivi. Quest'anno ci siamo ancora migliorati nei confronti dello scorso anno. Abbiamo avuto atleti dalla Sicilia alla Lombardia, al Veneto, per tutte le altre regioni. L'unico mio dispiacere, che ci tengo a precisarlo e a dirlo ai nostri regionali molisani, qualcuno che ci segue, spero che ci seguino tantissimi, che non abbiamo atleta molisani. La Molise ricambi è una società sportiva che ha gli allievi ormai da 20 anni. Da quando è nato questo trofeo? Abbiamo gli allievi. Quest'anno non abbiamo atleta, tant'è vero un campionato regionale senza corridori regionali. Non è giusto che sia così, perciò è un appello a tutte le famiglie che, oltre agli altri sporti, il calcio, il basket, ci sono tantissimi sport, però il ciclismo è divertimento. Il ciclismo deve essere passione anche dei genitori, non solo dei bambini. Tante società da tante regioni, un campionato regionale senza un'atleta regionale. Eppure nel Molise di ciclo amatori ce ne sono tantissimi. Dovrebbero essere i genitori a portare i loro figli ad amare il ciclismo. Sì, perciò un appello ai genitori, agli zii, a tutti chi è nel mondo del ciclismo, nei ciclamatori, all'appassionato della domenica, di coinvolgere pure un po' di ragazzi, che portarli sulla bicicletta. Che noi siamo molto onorati di ospitarli, di metterci la nostra società a disposizione. Noi gli diamo tutto proprio, da portarli a correre, da portarli in allenamento. Ce l'abbiamo sulle nostre spalle, diciamo così, 11 mesi all'anno. Tranne il mese di novembre, perché da dicembre ricomincia la palestra e stanno a carica della Molise di campo. Perciò è un'opportunità, non una cosa. A detta di tutto, lavoriamo pure bene. Possiamo notare che dalla nostra scuola sono usciti tre professionisti. Oggi abbiamo tre professionisti, grazie a noi, alla Molise di campo. Atletica andrà in onda questa sera alle 21 sulla prima rete Canale 11, lo speciale sul quarto trofeo Città di Agnone. Intanto sabato è in programma la 33esima edizione del Memorial Sergio De Castro. La manifestazione si terrà presso lo stadio Lancellotta. Sempre per l'atletica, buone le prestazioni dei giovani atleti della NAIA. Il raduno organizzato dal comitato Fidal Molise a Camerino. Secondo posto sui 60 metri ragazze per Veronica Mastrati. Terza piazza per Ilenia Curreddu nel salto triplo. Medaglia di bronzo anche per Giuseppe D'Alonso, categoria ragazzi, nel lancio del peso. Prossimo appuntamento previsto per il 20 settembre con la decima edizione della Corrisernia. Torniamo al calcio. Dopo essere stata ripiescata in eccellenza, la cliternina ha deciso di ripartire dal tecnico Anzivino. Positiva la prima uscita in Coppa nel derby contro il San Martino. Ai nostri microfoni l'allenatore. Marisa Anzivino, in realtà è arrivata la tua riconferma a furor di popolo, soprattutto anche per il bel lavoro che hai fatto l'anno scorso, tra l'altro costante. Fino alla fine hai portato avanti il discorso stringendo i denti e spiorando anche la permanenza. Una permanenza che poi vi ha restituito il comitato, anche per i benemeriti calcistici che ci sono in questa piccola contrada di Campomarino. Però alla fine state dicendo e direte comunque la vostra anche nel prossimo campionato di eccellenza. Intanto ti ringrazio per l'elogio, anche se poi purtroppo, dico io tra virgolette, per gli allenatori parlano solamente dei risultati. L'anno scorso abbiamo cercato di dare il massimo a tutti quanti, sia io, sia la società, sia i pochi giocatori disponibili che venivano ad allenarsi. Però non abbiamo ottenuto quello che volevamo, però devo dire che comunque abbiamo dato il massimo. Poi abbiamo avuto questo ripescaggio e adesso cercheremo di toglierci qualche soddisfazione. Senti, intanto lavorate sodo e con tranquillità su questi due splendidi campi che sono un po' il fiore all'occhiello di Campomarino e Nuovi Terni. Sì, infatti, meno male che abbiamo questo altro pezzo di campo a disposizione che stiamo ultimando perché ho detto alla società di voler fare una metà campo regolare, quindi quando non possiamo andare sul campo proveremo qui le cose che dobbiamo fare. Anche il Gambatese il 6 settembre sarà in aste di partenza del Torneo d'Eccellenze. I Biancoverti hanno riconfermato lo zoccolo duro della passata stagione e puntano ad una salvezza tranquilla. Ne abbiamo parlato con il Presidente. Rosario Conte, Presidente della Polisportiva Gambatese, anche quest'anno la sua squadra parteciperà al campionato di eccellenza? Sì, anche quest'anno siamo riusciti ad iscriverci per il quarto anno al campionato di eccellenza con molti sacrifici e cercheremo di onorare anche questo campionato con le nostre possibilità che sono ridotte. Quest'anno vediamo un ambiente un po' particolare rispetto agli altri anni. Sinceramente non abbiamo delle belle sensazioni, ma non per la nostra squadra perché in giro ci sono dei movimenti un po' strani che non ci piacciono tanto, vi dico la verità. Non ho timore di dirlo. Speravo nel prosieguo di quello che erano stati gli altri anni con campionati equilibrati, a parte le due squadre di testa, però tutte le altre se la giocavano alla pari. Quest'anno ho visto delle cose un po' strane. Mi auguro di sbagliarmi, però qualche sensazione negativa ce l'ho. Accennava alle squadre che parteciperanno al campionato di eccellenza, c'è anche il Termoli. Potrebbe ripetersi il campionato in cui partecipa in eccellenza anche il Campobasso? Non lo so, perché sono situazioni che cambiano di minuto in minuto. A un certo punto non si sapeva addirittura se il Termoli si iscriveva. Poi è venuta fuori questa situazione cordata che pare che voglia fare una squadra competitiva. Altre società alla stessa maniera sembrava che erano in difficoltà oppure puntavano a fare qualcosa di importante. Adesso si stanno ridimensionando. Quindi è una situazione ancora tutta in movimento che, ripeto, ancora non riesco a inquadrare bene. Quindi dovremo ancora aspettare qualche settimana per renderci conto effettivamente di qual è la portata di questo nuovo campionato. È iniziata già la preparazione con la Coppa Italia. Il campionato inizierà il 6 settembre. È stato confermato anche lo zoccolo duro della squadra e c'è stato anche qualche nuovo arrivo. Sì, sostanzialmente la squadra è la stessa dell'anno scorso. Abbiamo perso un elemento importante per noi del Re, che era importantissimo, però ha avuto, giustamente dal suo punto di vista, dei riconoscimenti da parte di altre società che noi non possiamo garantire perché, come sapete, abbiamo un budget limitato e quindi dobbiamo gestire le poche risorse che abbiamo. Però, avendo confermato il nucleo storico, l'ossatura base dell'anno scorso, abbiamo preso un ragazzo, per modo di dire, di esperienza, qual è Simone Salinno, che da questa settimana si allena con noi, che potrebbe darci una mano per fare un buon campionato anche quest'anno. Abbiamo preso qualche fuoricuota, qualche ragazzo interessante dal campo basso, che sicuramente sono affidabili e ci daranno una mano per raggiungere i nostri obiettivi. Poi, per il resto, la squadra, ti ripeto, non subirà degli altri stravolgimenti. Qualche piccolo innesto ancora di qualche altro fuoricuota, se ci sarà l'occasione o di qualche ragazzo che vorrà sposare la nostra filosofia, il nostro progetto, e allora sicuramente l'accoglieremo perché noi piacciono ragazzi che vogliono divertirsi, principalmente. Per finire, l'obiettivo è sempre lo stesso oppure quest'anno si punta a qualcosa di diverso? Ti ripeto, l'obiettivo nostro è quello di ripetere l'anno precedente, nel senso di salvarci. Dopo, se è possibile, cercare di migliorarsi sia sotto l'aspetto della classifica che sotto l'aspetto del punteggio. Sarà molto, molto difficile, considerate queste situazioni di movimento nelle varie società di quest'anno. Anche un campionato nuovo perché ha 17 squadre, è la prima volta che viene fatto nel Molise un campionato di eccellenza a 17 squadre, quindi può rappresentare anche un'ingognita sotto questi aspetti. Quindi i parametri di riferimento degli altri anni potrebbero essere non validi e quindi bisognerà fare molta attenzione. Calcio giovanile, lunedì prossimo la Scuola Calcio I Sanniti ha programmato il secondo stage per i ragazzi dal 99 al 2004, in campo alla Baita dalle 15 alle 16 a 30, a seguire fino alle 18 verranno supervisionati i ragazzi dal 2005 al 2011. La partecipazione è gratuita. Per la promozione sabato la Boise Elsie scenderà nuovamente in campo per la gara di ritorno in casa del Venafro. Occhi puntati poi sul campionato. A proposito della squadra De Martino. Gabriele De Martino, nuovo acquisto della Boise Elsie Metal Zilembo. Cosa ti ha convinto a sposare questo progetto, questa avventura? Ma sì, io ho seguito il mister Rossi, il nuovo mister dello Elsie. So che è un grande allenatore perché mi ha allenato con la Casertana quando facevamo gli allievi nazionali. Questo mi ha spinto dalla professionalità del mister, poi il gruppo è molto ben unito. Sarà sicuramente una bella esperienza e spero che questo campionato ci dia molta esperienza e molta grinta. anche i risultati, buoni risultati. Sarà un campionato a 17 squadre, quindi un inedito per la promozione molisana. Quindi 34 partite ci sarà da lottare e da soffrire per più giornate. Sì, sì. Le squadre che abbiamo preso nel girone sono molto preparate. Alcune sono neopromosse come noi, come la Gicarullo che affronteremo nella prima giornata di campionato. Sì, ripeto, sono grandi squadre. Sì, speriamo di fare punti e di salvarci molto presto, così per poi divertirci più in là. La difesa sarà sicuramente un reparto molto sollecitato quest'anno. Il mister preferisce la linea A4 oppure potete studiare anche altre varianti? Ma per ora che si sta formando il gruppo stiamo provando con la difesa A4. Poi, che ne so, se ci saranno nuovi arrivi, vari ruoli di alcuni ragazzi. Potremmo anche provare una difesa A3, provare altri moduli come il 5-3-2-1. Ma il mister è molto preparato e quindi ci insegnerà vari moduli. Prosegue l'avventura in promozione per il Real San Martino, che anche quest'anno punterà sui giovani del posto. Ai nostri microfoni Di Domenico, che ha parlato del settore giovanile dei Basso, Molisani. Antonio Di Domenico, uno dei responsabili del settore giovanile del Real San Martino, uno di quelli che lavora tanto per il vivaio di questa cittadina. Un vivaio molto importante che tra l'altro negli ultimi anni sta sfornando diversi giocatori che non solo sono finiti in prima squadra, ma sono finiti anche in categorie importanti. Un segnale di una cittadina che punta tanto sui ragazzi del posto e soprattutto far crescere il calcio locale. Sì, questo è vero. Ringraziamo soprattutto a Maurizio Santoyani e la società che già è vivente. sono parecchi anni, parecchi anni, che è vivente, quindi è loro il nostro ringrazio. Ora ci sono dei ragazzi che ci stanno, ci sono, grazie anche all'esperienza che sta facendo Esposito in Serie B, sono tutti in fervore, hanno tutta una cosa dentro che ci porterà a avere, quest'anno, a avere parecchi bambini, parecchi ragazzi, sono stimoli in più, parecchie persone che, anche i genitori che seguiranno questa avventura insieme a noi, vedranno che le cose saranno positive, perché non tutto nasce per bene, non tutto nasce per bene, non so che dire. Però il fenomeno Esposito potrebbe essere da traino per il settore giovanile. Sì, sarà una grande cosa, sarà una grande cosa perché è un idolo a San Martino, attualmente è un idolo per i ragazzetti, per le cose che fanno sport, che fanno... Poi noi, come ha detto Bartolomeo, l'impegno ci sta da tutte, soprattutto quando riguarda dal punto di vista del Presidente. Sant'Oianni ha lavorato molto, ha fatto grossi sacrifici. Sant'Oianni ha lavorato moltissimo e che ci ha inculcato queste cose anche a noi e che ci sta trascinando in questa avventura che, secondo me, io lo dico a tutti i ragazzi che a San Martino amano un po' il pallone, amano una qualsiasi attività sportiva, di seguire a Sant'Oianni, di seguire tutto questo gruppo che oggi li vediamo qua. Ceglia del Re, tutti i ragazzi usciti fuori a San Martino. Sì, tutti, tutti, perché lo sport dà parecchie cose, lo sport dà la serietà, lo sport dà la serenità, lo sport fa stare anche tranquilli i genitori, perché dicono, dove stanno questi ragazzi? Stanno allo stadio comunale di San Martino, stanno tutti tranquilli, stanno tutti bene. Quindi il mio unico invito, anche le persone che sono titubanti, anche le persone che... non so, lo sport è il massimo. È tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.